Musica Musica E ben ragazzi bentornati qui nel RISE CLAN Con voi c'è Ale e vi portiamo un altro dei nostri fantastici gameplay Il gameplay di oggi infatti si tratta della DNA più veloce in Italia effettuata a successione confermata Si tratta infatti di una DNA in ben 119 secondi effettuata dal nostro Genotics La mappa dove è stata effettuata questa DNA era Biolab L'arma che utilizzava era un PAL 27, credo la variante Obsidian Steed Equipaggiata con caricatori aumentati, calcio tenore e calcio regolabile Si tratta di una DNA davvero davvero veloce Ho due piccole curiosità ma niente di che se volete aggiungere Anzi dovete aggiungere sia Fero su PS3 per Black Ops 2 e Ghost sia Genna Infatti Peppy lascerà qua sopra impressione comunque in descrizione i loro ID Aggiungeteli che comunque fa molto piacere a noi giocare con voi iscritti E niente ragazzi il gameplay di oggi è davvero veloce Non mi sono preparato appunto un argomento a causa di ciò Comunque in questi giorni cercherò di portare ma di commentare un po' più lunghi Ecco anche per essere più presente nel clan e così voi potete sentire di più Inoltre a breve forse porterò anche un dual commentary con qualcuno del clan In quanto vedo che c'è molta attività all'interno di questo clan Per quanto riguarda appunto la serie in quanto ci sentiamo sempre Ed è una cosa che mi fa piacere in quanto si vede che è un clan veramente veramente attivo Nulla ragazzi Mi invito a passare da tutti i link qua sotto in descrizione Dal canale di Genotix, dal mio canale Iscrivervi se non lo siete ancora Lasciate tanti like e commentate qua sotto Per oggi da Ale, da Rise Clan è tutto Ci si becca al prossimo video Bella ragazzi